Riflettori accesi sul mercato. Brito spiace alla Fiorentina e spunta dunque il possibile ritorno di Natali sotto le due torri. Per quanto riguarda il ruolo di esterno-sinistro, al momento i papabili sono Pisano e Zauri. Contro l'Atalanta si va intanto verso la conferma del 4-3-1-2. Ancora ai box Mingazzini, ieri il tedesco era all'interno-sinistro sulla mediana. Corriere dello Sport Stadio. Per ora Pisano è in vantaggio su Zauri, anche perché il Toro è interessato a qualche rosso-blu. Tutto ruota attorno a Miguel Angel Britos. Se il Bologna deciderà di lasciar partire da subito il giovane difensore uruguaiano, ha oggi corteggiato sia da squadre italiane che estere, ecco che farà il possibile per mettere a disposizione di Colomba un giocatore che a Bologna ha già giocato, precisamente Cesar Natali. Il primo obiettivo della società di Casteldebole riguarda un altro ruolo, l'esterno-sinistro difensivo. In questo caso sono due i nomi che ballano. Marco Pisano del Torino e Luciano Zauri, attualmente alla Sampdoria. Britos piace a un altro paio di società italiane e a due società spagnole. Entro tempi brevi, le due parti si metteranno a sedere attorno a un tavolo per verificare se l'operazione può andare a buon fine. Anche perché va sottolineato come Natali sia attualmente nel mirino del Napoli, pare interessato anche a Britos, che piace tanto a Mazzarri e dell'Atalante sarebbe lui a dover dare alla fine della fiera la benedizione al trasferimento. Se il Bologna decidesse di trattenere Britos fino a giugno, un nuovo difensore arriverebbe, ma non sarebbe Natali, solo nel caso in cui fosse ceduto a Gennaio Santos. Pisano-Zauri Il Bologna sta valutando i pro e i contro dell'arrivo dell'uno o dell'altro a Casteldebole, ma oggi sembra in vantaggio Pisano su Zauri, anche perché il Torino potrebbe essere interessato a rilevare uno o due giocatori del Bologna come contropartita tecnica, vedi Tedesco, vedi la vecchia e vedi anche Marazzina. Il che non significa, tuttavia, che Zauri sia già fuori dai giochi, tutt'altro. L'esterno Doriano sarebbe felice di arrivare a Bologna, dove ritroverebbe il suo grande amico e compagno di squadra alla Lazio Massimo Mutarelli. Il resto del Carlino La Fiorentina ha chiesto Britos La Fiorentina vuole Britos, difensore uruguaiano del Bologna. Lo segue da parecchie settimane ed è molto probabile che presto, alla riapertura del mercato, formalizzerà un'offerta per averlo. Nei giorni scorsi Renzo Menarini ha proceduto all'ennesima recapitalizzazione del club, versando 5 milioni nelle casse sociali. Soldi che servono a garantire la quotidiana gestione del club, il pagamento degli stipendi e delle trasferte, ma non l'acquisto di nuovi giocatori. Se Colomba avanzerà qualche richiesta per il mercato di gennaio, di alternative non ce ne sono. O il Bologna vende o il Bologna riesce a mettere a segno qualche scambio utile oppure rimane così com'è. Che il proprietario metta sul piatto soldi da destinare alla campagna acquisti sembra un'ipotesi da scartare, come lo stesso Baraldi ha dichiarato nei giorni del suo insediamento. Per resto, poco prima che aprà ufficialmente il mercato, la Fiorentina potrebbe ufficializzare la sua offerta di 5-6 milioni per Britos e il Bologna dovrà decidere se mettere un freno definitivo alla fuga dei giovani oppure continuare ad annunciare politiche di svecchiamento salvo poi finire nelle braccia di qualunque acquirente, gli chiede ai suoi giocatori più promettenti. Se il Bologna avesse tenuto quelli che ha cresciuto in casa, oggi giocherebbe con Zaccardo, Gamberini, Britos e forse Albertazzi. Ne ha salvato uno e farà del suo meglio per tenerselo stretto, anche se con Portanova e Morios titolare Britos vedrebbe poco il campo. Ma si può consolare. Non è che andando a Firenze adesso, troverebbe Prandelli sull'uscio pronto a dargli una maglia da indossare subito. Molto dipenderà dalla lista dei buoni e dei cattivi che Colomba non ha ancora voluto compilare perché considera fondamentale la partita con l'Atalanta. È l'ultima partita prima della sosta, quindi prima che apra il mercato di gennaio ed è anche l'ultima occasione che alcuni giocatori hanno di fugare dubbi sul loro piacere di rimanere nel Bologna o di riscattare qualche prova che ha sollevato più di una perplessità. Colomba vi salverà. Colomba sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto ha dato equilibrio a una squadra che ha tutte le carte in regola per salvarsi. Ma l'Atalanta sabato ha bisogno di punti come dell'aria da respirare. Parole di Cesare Giacobazzi. E già questa è una notizia. Perché da sempre avaro di parole il porrettano Giacobazzi, 47 anni, per 12, dal 93 al 2005, anima amministrativa del Bologna di Gazzoni e poi, dopo la buon'uscita di Cazzola e una vacanza di sei mesi, dal maggio 2006 direttore generale dell'Atalanta, o presidente Ombra, come suggeriscono quelli che di cose nerazzurre la sanno lunga. Da un paio d'anni l'Atalanta si gioca con l'udinese lo scudetto dei bilanci sani. E l'architetto dei conti nerazzurri è lui. Non solo. Dicono che all'Atalanta non si muova foglia che Cesare non voglia. Dice Giacobazzi la partita allo stadio per tutti è un momento di gioia. Io invece soffro e ho bisogno di stare da solo. Qualche partita dal vivo a Bergamo l'ho vista, ma ritagliandomi uno spazio in tribuna lontano da tutti. Facevo così anche negli ultimi anni a Bologna. Il Bologna, già. Domenica l'ha visto soccombera nel derby del Tardini, in tv, facendo zapping su Sky, ma ha lottato fino alla fine, ha dimostrato di essere una squadra viva. E il merito principale è di Colomba. La sua Atalanta, invece, quest'anno si è ritrovata catapultata in un campionato di sofferenze che aveva quasi dimenticato. Nelle due stagioni precedenti siamo partiti con l'obiettivo classico della salvezza e poi ci siamo scoperti a fare campionati importanti. Il problema quest'anno è che tra le squadre medio-piccole il livello è sensibilmente cresciuto. Parma, Bari, Chievo stanno facendo cose fantastiche. La differenza più significativa che ho provato lasciando Bologna e arrivando a Bergamo è la grande cultura del settore giovanile che c'è all'Atalanta. Costruirsi in casa giocatori ti dà la possibilità di programmare nel medio-lungo periodo. Raggi. C'è personalità. Deficito di personalità. Se c'è una cosa che a questa squadra non manca è proprio la personalità. Gente come Divaio, Zalaieta, Adailton, Guana, mi sembra che abbiano tutti esperienze e personalità forte. Da buon toscano Andrea Raggi le cose non le manda a dire. Nel giorno in cui Colomba comincia a rassegnarsi all'idea di non poter contare su Mingazzini per la sfida con l'Atalanta, anche ieri il vice-capitano, reduce da uno stiramento al polpaccio, è rimasto al palo, e nel confermatissimo 4-3-1-2 lo ha rimpiazzato con Tedesco, schierato nel ruolo d'interno sinistro a fianco di Guana e Mughingai, Raggi risponde all'appunto severo del direttore generale Luca Baraldi che domenica sera, commentando la sconfitta col Parma, aveva puntato il dito contro un Bologna con carenza di personalità. Il Bologna sta facendo il cammino regolare di una squadra che si deve salvare, dice Raggi, al Tardini ci è girata un po' male, perché sull'1-1 se il tiro di Divaio non picchia sui tacchi di Mirante, forse adesso staremmo parlando di un'altra partita. Ma nel secondo tempo siamo entrati in campo troppo timorosi, ci siamo abbassati troppo e ci siamo fatti aggredire. C'entra l'atteggiamento, ma forse anche il modulo. O meglio, una sua errata interpretazione. Domenica osserva Raggi in certi momenti i nostri avversari erano in superiorità numerica, e quando ti arrivano addosso da tutte le parti per noi difensori non è facile. Io in questo modulo mi trovo bene, ma bisogna che difendano tutti, a cominciare dagli attaccanti che sono i nostri primi difensori. A proposito di difesa. Ieri Colomba ha schierato una linea a quattro con Zenoni, Raggi, Portanova e Lanna. Fuori, per il momento, Bombardini. La Repubblica. Il mercato chiuderà la Fai da Rosblu. Baraldi vuole decidere, ma Moggi ha già pronta una lista per Menarini. Per il DG non ci sono incedibili. Britos può partire e anche Zalaietta non è intoccabile. Colomba oltre le critiche. Avanti col tridente. Il tecnico intenzionato sabato contro l'Atalanta a riproporre il 4-3-1-2 dopo i positivi risultati ottenuti al Dallara. Raggi replica la dirigenza. Personalità e temperamento. Per me ci siamo. Corriere della Sera di Bologna. Natale al gelo. Il retroscena. Il Bologna di gennaio potrebbe essere molto diverso da quello di oggi. Il mercato sarà soprattutto in uscita. Il K.O. di Parma ha lasciato scorie. Decisiva la gara contro l'Atalanta, Baraldi medita una rivoluzione. Pidgeti. Impaya dentro. Parma ha lasciato la gara contro l'Atalanta, Baraldi medita una rvolucina. Per me ci siamo iscritti. Grazie a tutti.